E' difficilissimo, è come scalare il Monte Bianco a piedi nudi. Scarsità di materie prime, inflazione galoppante e caro energia. L'incertezza c'era già prima, ma dopo le dimissioni di Draghi il panorama sembra diventato, se possibile, ancora più difficile. Ad autunno servirà un'impresa, dice il presidente dell'Unione Industriale di Torino. Sembra molto complicato, lo scenario era già complicato prima, adesso è ancora più complicato, non aiuto certo il paese ad essere credibile. Qualcuno ha posto gli interessi personali davanti agli interessi del paese e della comunità. Gli fa ecco Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino, che cerca di fare una sintesi per le oltre 220.000 imprese che operano in città e provincia. Questa crisi di governo è arrivata inaspettata e anche nel nostro territorio crea grande preoccupazione e grande incertezza. Speriamo che questa crisi non porti una pausa troppo lunga in questo percorso virtuoso di cui abbiamo un grande bisogno. E tra gli imprenditori c'è già chi fa delle richieste specifiche al governo che verrà. Il tema sospeso è quello del super bonus del 110%. Ci aspettiamo che, oltre che implementi questo importante provvedimento, che del super bonus soprattutto preveda una proroga, perché in questi giorni abbiamo perso tempo importante dovuto a questa incertezza. L'incertezza e la preoccupazione per il dopo Draghi si respira anche tra i sindacati. I temi chiave principali sono una politica dei redditi per provare a frenare l'inflazione e dare salari adeguati alle persone. È una riforma fiscale che guardi con meno rapacità al mondo del lavoro e con un po' più di meno indulgenza alla rendita.